ciao a tutti da agri merlino ben ritrovati sul canale oggi vi porto con me in due campi prova uno di grano duro e uno di colza cosa andremo a vedere andremo a vedere quelle che sono quella che la situazione pre raccolta appunto di queste due culture sono in compagnia del dottor lorre jean che è la persona di riferimento della nostra sede per quanto riguarda queste culture c'è il d78 quello che ci aveva stupito l'anno scorso come resa comunque fa la sua figura si si e non è male anche c'è bello pieno bello pieno si certo e anche la foglia più sana e poi sono quelle cose che ti fanno a far la produzione perché sicuramente aiuta molto certo quindi possiamo dire che è un'annata che sicuramente ha messo dura prova il grano per quanto riguarda le patologie fungine legate appunto alla sanità della pianta e in fase successiva anche ovviamente alle patologie che vanno a colpire la spiga quindi in particolar modo il fusarium si se non avessi trattato sarebbe mezzo mezza spiga se non di più ai fatti e vogliare molto bello questo questo ancora di più più sano anche di suo anche se per l'annata diciamo che azienda ha usato ha trattato con un fungicida di nuova di nuova concezione chiamato univoc di corteva è un fungicida che due anni che è stato lanciato sul mercato ed è stata sicuramente una grande innovazione per per il suo meccanismo d'azione per la sua grande persistenza e anche la sua grande efficacia nei confronti di delle maggior delle maggiori appunto patologie fungine sia di quelle legate appunto all'apparato vegetativo della pianta e anche per la protezione della fusariosi della spiga e qui è stato fatto un trattamento unico il 14 di aprile proprio di inizio spigatura e quindi con questo diciamo che si è cercato il miglior compromesso tra tra appunto la protezione sia della pianta che della spiga direi che il trattamento ha comunque sicuramente fatto una grande differenza perché rispetto appunto diversi campi non trattati che ho visto in questi giorni diciamo che la sanità è evidente come poi si ne dotano anche appunto quello che stiamo vedendo per quanto riguarda la concimazione sono stati fatti due interventi sempre con nitrato ammonico al 27 primo il 22 di febbraio quindi eravamo praticamente fino in inverno mentre il secondo è stato fatto l'otto di maggio in totale appunto l'azienda ha fornito circa 90 100 unità di azoto per ettaro per quanto riguarda i diserbi si è fatto un trattamento con floramix il 17 di aprile come accestimento non è una roba esagerata non è sì però non è neanche male ho segnato il 27 11 qua un po tardino un piante si qualche pianta in più ci devo stare come accestimento però non è male quante unità hanno buttato qua di spiga bella pianta sana precisamente questo di 84 più belli vedo un bel accestimento su quello prima 78 quindi queste valutazioni fianco a fianco come potete vedere abbiamo fatto delle delle parcelle indicativamente di 0 304 ettari e ci sono appunto servite per confrontare alle varie le varietà sia a livello di di pianta soprattutto di tenuta con le malattie fungine al clima padano si è molto più malato sia per quanto riguarda ovviamente anche per l'aspetto legato alla produzione quindi alla spiga e anche ovviamente l'accessimento la produzione ne andremo pesare quando trebbiamo con un carro pesa quindi differenzieremo le varie parcelle e sapremo dirvi sapremo dirvi qual è la varietà che ha prodotto di più e anche quali sono le caratteristiche qualitative del prodotto bene dai facciamo i complimenti a dall'argine azienda dall'argine bene bene bravi i campi andrebbero fatti così quando si riesce passando alla valutazione del campo prova colza che ho nell'azienda mezzanella dove c'è l'amico fausto a dirigere i lavori qui il campo era stato seminato in una delle pochissime finestre a fine a fine fine agosto dell'anno precedente quindi si sono sfruttate le semine anticipate che in quei rari casi dove si è riusciti a seminare sicuramente hanno fatto la differenza e ci troviamo in campi dall'ottimo potenziale produttivo come in questo caso quello che si vede nel campo prova è la resistenza all'elettamento delle varietà quelle cosiddette basse quelle dwarf che anche quest'anno si confermano ovviamente eccellenti sotto quell'aspetto mentre le varietà alte che potenzialmente sono quelle che possono fare qualche quintale in più ovviamente anche quest'anno hanno diciamo diverse chiazze allettate quindi poi sarà la valutazione della della produzione una volta che trebbieremo a capire se appunto l'allettamento ha influito poi in modo in modo negativo su queste varietà anche l'agricoltore anche se producesse metti un quintale in più ma questa qui non gli viene voglia di seminarla se gli dici ti do quell'alta che si era un po coricata che sai cosa che le quelle alte rispondono meglio ai ritorni di freddo ecco lo sei alle gelate terreno quello è una cosa che negli ultimi c'è un po penalizzato ok certo hanno si può aver tutto si dopo sai l'italia è anche grande cioè ci sono zone che servono certe caratteristiche qua in questa zona qua qua è soggetto a malattie fungine importanti sia nel senso che sono zone umide caldo umido quello che si è visto quello che si vede ecco analizzando la parcella col col dottor loregian sicuramente la presenza di patologie fungine in misura molto superiore agli anni precedenti in particolar modo alternaria che si si denota con con macchie macchioline nere sulle silique inoltre anche 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 le piante stesse del colza ci sono diverse piante già secche o comunque se che si stanno seccando questo proprio dovuto a patologie fungine un'altra un altro aspetto importante a mio parere è stata la il controllo del mail del meligette nella fase primaverile e anche in questo questo caso in questo campo si è trattato mentre nella stessa azienda in questa azienda è un campo vicino non si era trattato perché la cultura era diciamo più rada vi posso dire che se vedete anche le immagini che avevo fatto a suo tempo potete vedere una presenza veramente eccezionale dove dell'insetto in quella fase nella fase della fioritura che ha portato appunto conclusa la fioritura nel campo non trattato ha praticamente un mancato una mancata allegagione quasi totale quindi questo per dire cosa per dire che dove si è riusciti a trattare in presenza di pressioni elevate ed erano tanti campi dove io ho visto appunto una presenza elevata il medigette sicuramente questo ha influenzato ovviamente positivamente ecco poi quella che è stata la legagione quindi quella che sarà anche poi la produzione di colza di questo pezzamento trattato infatti si vede poi chi ha concimato in modo importante in primavera perché c'erano dei campi un po tristi seminati tardi chi ha veramente spinto sull'azoto adesso si trova delle colze che sono veramente belle diverse cioè anche che hanno stupito c'è uno che diceva mammi non parte qui non parte là si parla sempre di quelle dwarf ecco le nostre dwarf cioè io mi ha chiamato un cliente mi fa guarda una colza che non ho mai avuto però aveva spinto tanto già a fine inverno poi dopo un po di intercessione due tre interventi azzottati e dopo è partita partita le altre valutazioni le faremo ovviamente in trebbiatura non non manca poi tanto adesso siamo siamo appunto fine maggio inizio giugno e prevediamo di raccogliere il campo tra il 15 e il 20 di di giugno diciamo che ormai e siamo verso la fine del riempimento e poi dovrà solo perdere l'umidità quindi ormai grosse sorprese non ci saranno potenziale produttivo molto buono nel campo mi sbilancio con con l'aspettarmi una produzione tra i 40 e 45 quintali vedremo se ci avrò preso ditemi anche voi come come il vostro colza pre trebbiatura e per ogni cosa scrivetemi nei commenti ciao a tutti